Ciao e benvenuti a tutti. 1, Ultima Stella 87. Se 9 trasmettesse l'eredità? No, perché Discovery Italia non la farà mai. Se la sigla di TG1 ritornasse a quella del 1992? Meglio lasciar stare, perché per il nome telegiornale 1. Italia 2, nato nel 2011, è il canale televisivo di Mediaset, rivolto principalmente al pubblico maschile. La sigla del 2022 di TG1 e TG2000 sono bellissimi. Se K2 chiudesse nel 7661? Succederebbe una super duper iper ultra mega catastrofe. Meglio lasciar stare. Rastrello Channel, Rai Coco, Mediaset Pepe, Sky Vomito e Discovery Festa, no. Italia Channel, non si sa. 2, AVN, congratulazioni a tutti i vincitori di Giro d'Italia. Se Boeing e Cartonito trasmettono i segreti di Twin Peaks? Forse no. Se 9 trasmettesse Studio Aperto? No, perché Discovery Italia non la farà mai. Destra o sinistra? Tutti e due. Bambini o bambine? Tutti e due. Boomerang o GFV punora fa? Boomerang. Rayoyo o QVC? Rayoyo. Se Boeing trasmettesse BBC News e France 24? No, perché Mediaset non la farà mai. 3, Christian. Alle 8 della sera è stato un programma radiofonico di divulgazione culturale, trasmesso alle 20 con cadenza giornaliera, dal lunedì al venerdì, dalle frequenze di Ray Radio 2. A lungo è stato il programma culturale radiofonico che in Italia ha registrato gli ascolti più alti. 4, Concetta. Se 9 chiudesse? Succederebbe una super duper iper ultra mega catastrofe. Meglio lasciar stare. Ray 3 o Ray 2? Tutti e due. Se K2 trasmettesse i nuovi cartoni? Sì, sarebbe perfetto. Se nascesse un nuovo canale Mediaset? Grande fratello TV. 5, Daniele. Se, nascesse Cartonito News? C'è già TG Cartonito. Ed è tutto. Ciao a tutti e alla prossima.